Preparatevi per un'avventura di riscossa e coraggio La leggendaria serie animata che ha appassionato milioni di spettatori arriva al cinema Sono Naruto Uzumaki e non ho paura Per un evento speciale senza precedenti Questo è il mio modo di essere ninja Naruto, la via dei ninja Il 6, 7 e 8 dicembre al cinema Trenota il tuo biglietto su www.narutoalcinema.it